Futura vuol dire, come diceva Lucio Dalla o come cantava Lucio Dalla, avere speranza e fiducia per il domani e l'unico modo per farlo è includere e coinvolgere tanti giovani. Futura conta oltre 18 ragazzi che hanno deciso di mettersi in gioco per la propria comunità. Lo abbiamo fatto confrontandoci, parlando di idee e di progettualità e anche affrontando le criticità che devono essere risolte. Il nostro primo sostenitore è il sindaco Roberto Luca Dallocca e noi vogliamo essere i suoi primi sostenitori perché abbiamo bisogno di una figura che possa affiancarci, seguirci e aiutarci anche ad affrontare lo scoglio della burocrazia che è un po' ciò che frena il passaggio dalle idee ai fatti. Lo facciamo perché abbiamo la consapevolezza che tanti giovani sono lontani dalla politica e la politica è lontana dai giovani. Quindi se c'è qualcuno che deve fare il primo passo siamo noi.